Quello della casa è diventato un vero e proprio problema per chi non ne possiede ancora una, soprattutto per le giovani coppie in procinto di sposarsi, ma anche per i ragazzi che studiano, che preferirebbero l'affitto, ma anche questo è ormai insostenibile. Quello che arriva dai giovani è dunque un vero e proprio grido d'allarme. Nell'ultimo periodo c'è tantissima richiesta di affitti e poca disponibilità di appartamenti. E con l'avvento chiaramente dell'università, tante persone che hanno acquistato appartamenti per investimento sono stati adattati questi appartamenti per affittare a studenti, diciamo anche come se divesse diventare poi un affitto a camere, quindi chiaramente gli affitti sono andati un po' alle stelle per le cifre che hanno sempre rispecchiato la città di Cremona. Di sotto dei 400 credo che non ci sia la possibilità di poter trovare assolutamente nulla. Per una persona sola un affitto di questo tipo, a cui si vanno ad unire le spese, è impegnativo. Per l'università infatti i prezzi sono cresciuti. C'è anche chi sceglie l'affitto momentaneamente in attesa di trovare un lavoro stabile, ma i più giovani hanno grosse difficoltà. Il giovane medio che ha uno stipendio normale affrontare un pagamento di un affitto da 500-600 al mese diventa improponibile. Questo è un problema che purtroppo viviamo tutti i giorni. Ci sono poi zone più richieste per quanto riguarda gli affitti. La prima periferia della città è molto richiesta, magari la zona Giuseppina, la zona Castello, la zona Po. E difficoltà poi per i mutui. Se dobbiamo fare un paragone all'estate scorsa, è chiaro che il divario, il cambio del tasso di mutuo è assolutamente importante. E' chiaro che si devono fare delle valutazioni per quanto può incidere la rate di mutuo sul proprio stipendio mensile della persona singola o del nucleo familiare. Io personalmente dico che comunque attraversiamo un periodo dove i tassi probabilmente avranno un loro aumento, soprattutto andare alla fine dell'anno, ancora di qualche cosa. Continua dunque il grido d'allarme dei giovani affinché la situazione non peggiori.